Ciao a tutti ragazzi sono Luke e benvenuti in questo nuovo episodio della Captive Minecraft Ragazzi non abbiamo raggiunto i 5.000 like nel video scorso Se ne andate 4.900, credo 4.000 qualcosa Ma giustifico il fatto che da cellulare e da tablet non funzionino i like Per cui dovete continuare a cliccare il tasto mi piace per cercare di mettere il pollice in su Visto il bug di Youtube da diverse settimane e non risolve Io ho fame, prendiamo qualche zu... Eh, dammi le zu... dammi le zu... Ah, niente, niente, avevo le zuppe di proprio vietro, mi ero confuso Vai dammi qualche zuppa anche tu, eh, ambrogio Oh, grazie Ok, abbiamo 3 mucche, è vero? È crescita la terza Allora, per la lana io non ci avevo pensato ragazzi Eh, avete ragione anche voi Per il filo, ok, facciamo la canna alla pesca e oggi tanti gg Ma con il ferro facciamo una bella paletta qua, come si chiama, la lambaradam E rubiamo la lana Alla terza lana facciamo il letto E beh, mica ci avevo pensato a sta cosa io raga C'avete ragione pure voi, eh Allora, lana per fare il letto ho aggiunto una cesta e ho messo a cuocere del ferro, fantastico Ragazzi, oggi andiamo giù nel vault perché ho scoperto, grazie a voi, come si sblocca Innanzitutto, che innanzitutto, che facciamo una canna alla pesca, innanzitutto Allora, canna alla pesca, gg, ce l'abbiamo Abbiamo la canna alla pesca che è un achievement E le, le, i binari che potrebbe essere un altro achievement Ora vediamo se riusciamo a fare, pam pam, magari facciamo sotto Fantastico Però vorrei andare prima ragazzi a fare il vault perché è una cosa abbastanza figa da farvi vedere E oltretutto serve, serve davvero molto e dopo vi dico il perché Mi scuso ragazzi per la canottiera, oggi non ho le mie magliette ma la canottiera Trovate le mie magliette in descrizione, nel link Perché raga, fa un caldo, allucinante, insopportabile GG for you, babies, anglosassone Cioè, dovete capire che ragazzi, che a Milano fa talmente caldo Che io prima, stamattina mi sono svegliato Ho messo i piedi per terra per mettermi le ciabatte, no? Poi mi sono, le sentivo un po' ruvide Mi sono accorto che non erano ciabatte, erano due coccodrillini Erano i figli di quelli nel cortile che ha partorito Sì, l'altro giorno ha piovuto a Milano, ha fatto quattro gocce Ma quelle quattro gocce hanno creato lo stagno, ok? E dentro lo stagno non ci sono i pesci, ci sono i coccodrilli Eh, sì, dal caldo L'altro giorno mi suona il campanello, vado ad aprire, mi vedo chi era Eh, io ho convinto, è arrivato il postino, è arrivato qualche pacco per fare l'unboxing E il re leone, direttamente dall'Africa è venuto Mamma mia, ha detto che mo, qua in questo continente Eh, che, che, in questo continente, ecco qua In poche parole, eh, si adattano Non ci hanno più freddo come una volta Ma pure i leoni sono arrivati lì a Milano Mamma mia Eh, dire che d'inverno vengono a trovarci i pinguini dall'Australia Mamma mia Ho lo stagno in cortile con i, con i cosi, là I pappagalli, ragazzi, sono arrivati I pappagalli dall'Equadro sono arrivati Mamma mia, che caldo, che caldo Allora, possiamo farci un'armatura, tipo un giropetto Eh, un giropetto ci sta Un giropetto ci sta, bam E che ci manca? Il caschetto Il caschetto, sì, sì, sì E abbiamo l'armatura complete Complete Lasciamo il ferro a casa, perché potrebbe servirci Ragazzi, senza perderci in chiacchiere mutande Noi andiamo giù Vi ricordo, mentre scendo Oh, 5.000 like su questo video, eh Perché sennò io non faccio il prossimo Adesso, questo qua ve l'ho fatto Perché c'è la scusa che i like e la telefona non vanno Però, vi ho detto Che cliccando più volte il tasto mi piace E prima o poi ve lo mette È un piccolo bug di YouTube Per cui insistete Ditelo anche ai vostri amici Condividete Piuttosto fate aprire un canale alla vostra mamma Fate mettere il like E mi mandate lo skin su Instagram Con il like di vostra mamma Ci sto arrivando, eh Ci sto arrivando Ragazzi, non capite quanto tempo ci si mette a scendere Mi sono pure perso Ma a breve, a breve Tutto questo finirà Perché arriverà quello che serve a noi Il teletrasporto Vabbè, ve l'ho spoilerato Più che altro me lo sono anche spoilerato io Perché, ragazzi Ho visto miliardi, miliardi Di video anglosassoni Ok? Ragazzi, tutti Tu, pure PewDiePie Cioè, in poche parole Trova una cosa diversa dalla mia Io invece lo trovo diverso da tutti gli altri video Ora vi faccio vedere, ragazzi Cosa sto intendendo Eccoci qua Eccoci qua Scendiamo Guardate, guardate Tutti quanti Tutti quanti Non hanno questi vetri Non li hanno Per cui io pensavo fosse un bug In poche parole Dobbiamo Spaccare questo vetro E grazie di cuore, ragazzi Voi che commentate tutti i giorni Ho letto tutti i commenti E tanti mi hanno detto Luke, spacca il vetro Fantastico Boom Fino a qua siamo arrivati Tanti numeri che volano Ok E sto effetto Già E GG fuori Bebisse Questi vetri Io dovrei romperli Guardate Bambete Guardate che c'è dietro Il problema è che tutti gli altri video Che ho visto Americani, francesi, tedeschi, russi Addirittura pure in Australia I canguri hanno fatto i video Oh Tutti non hanno questi vetri Cioè Vado a capire Vado a sapere In poche parole A che serve Rubiamo un po' di pagnotte qua Di pagnotte di neve Almeno in questo In questo momento ragazzi Sto provando Una sensazione di fresco Con il caldo che c'è Anche se È totalmente al contrario Sapete che d'estate Se voi bevete Se voi d'estate Bevete un chubar Se voi d'estate Bevete un tè caldo In realtà Si stareste meglio Dopo qualche minuto Se invece Mangiate un ghiacciolo Dopo qualche minuto Sareste peggio Perché Perché È come fare una doccia ragazzi Una doccia fredda D'estate Quando esci dalla doccia Esci sudando Se invece D'estate Fai una doccia bollente Calda Esci Che stai molto meglio Perché Dobbiamo fare Ecco Ho capito no In poche parole Se io bevo un chubar All'interno del mio corpo Il chubar è molto caldo È più caldo Dell'esterno Se fuori ci sono 30 gradi Nella stanza E io bevo un chubar Che di gradina 40 Per esempio Sto meglio Se mangio un ghiacciolo Il ghiacciolo è Meno 4 gradi Voi più ne avete capito Raga dai Mi sono perso nel discorso Allora Che dobbiamo fare Prendere queste Le palle di neve E lanciarle Bambete Guardate Voi dirti Che cazzo è successo Niente È caduto uno zero È caduto perché Noi dobbiamo beccare i numeri Che non servono Che logicamente Non sappiamo Andrà a culo Fino a che non rimangono Gli ultimi 4 numeri Che sono i nostri codici Sta cosa è gg4us Mamma mia Cioè tutto anglosassone Guarda qua Guarda qua come cadono Vedi quanti numeri sono caduti Le a zero È caduto un 9 È caduto un 1 Mamma mia Devo fare così Fino a che non rimangono Gli ultimi 4 numeri Raga Se non vedete la fine Sono rimasti 5 numeri Vedete qua che c'è il verde Il rosso Il giallo E il viola In poche parole Sono rimanere un giallo Un rosso Un verde Un viola In poche parole Sono rimasti 5 numeri 2 gialli L'1 e il 3 Quale sarà quello giusto? Io provo l'1 Picchio l'1 Picchio l'1 Beccardo però Picchio il 3 Allora il 3 non è Credo È caduto l'1 Ok era l'1 Fantastico Allora il verde Abbiamo Il verde è il 2 1 e 2 Il rosso abbiamo il 4 1 2 3 4 Il giallo abbiamo il 3 1 2 3 E il viola abbiamo il 5 1 2 3 4 5 Parabam Codice citato Guardate che figata raga Guardate che figata ragazzi Ecco qua Ci droppa alcune cose Ma non è solamente il drop di alcune cose La cosa figa È questo blocco Che blocco è? A parte io Minchia delle esmeralde L'oro Ok Sapete che blocco è? Jump point spawn block Raga Se io salto Andiamo a casa Se io salto Scendiamo giù Se io salto Andiamo a casa Giù 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 Basta Warning Si è rotto il blocco Si sta ricaricando Ok non posso usarlo tante volte Sto facendo già il danno Bene Che figata Mettiamo via smeraldi e oro Ragazzi Ah questo qua non è più forte del mio? Più 5 punti Più 6 No più forte del mio Ok Allora ragazzi 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 In poche parole Che cacchio sto facendo? In poche parole In poche parole Ora noi andremo a pescare Qua Ho uscito una scritta Sbaglio Ah qua ok Waypoint Allora andremo a pescare un attimo Sperando che non si rompa Come faccio a mettere una canna da pesca in acqua Da qua? Semplice Noi prendiamo la canna da pesca E la lanciamo in aria Così in questo modo Guardate Dovrebbe scendere GG for you Vediamo Bambete Ecco qua No si è incastrato sotto Allora deve essere più 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 così Più così Allora vediamo un po' Speriamo in bene Speriamo in bene Speriamo in bene che non si incastri Adesso l'ho tirato Viva Non sono perla Vai Via 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 E vai a galla Mamma da ma non ce la fa Vabbè speriamo di prendere un pesce dai Ecco No Stavo per pescare Ragazzi Stavo per il pesce arrivare Oh Nice No mi sa che è troppo alto Troppo alto Facciamo come ho fatto prima Ecco Ecco C'è la lenza in acqua E si va a pescare Ragazzi E però così non vedrei Non vedessi Non vedo Un blocco alto Ok Vabbè lo so pirla No si so pirla Lasciatelo dire No si che sono pirla Si che sono pirla Andiamo un po' da così Sono beccato No più là Così 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 Mamma mia Ma No Non va bene Si sta ghiacciando l'acqua Però non va bene così Speriamo in bene dai Ragazzi Ho pescato due pesce addirittura Due Ah perché prima l'avevo preso Prima L'avevo preso il pesce Sono un pirla ragazzi Sono un pirla Sono un grandissimo pirla Sicuramente nei commenti Ne sarete accorti Allora Per fare l'archiment Devo cuocerlo Devo cuocerlo Cuocerlo tutti e due Ok Per fare l'archiment Vi viene a cuocere il pesce Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' Tutti pronti Tutti pronti Tutti pronti Voila Archiment Intanto dobbiamo un'altra lana E me ne ha date tre E me ne ha date tre E il letto posso far Madonna mia mia Dammi la legna tu L'estate Che sto combinando Ragazzi Abbiamo il letto Vuol dire Molti mi hanno detto Luke ma che ti serve il letto Tanto lo spawn è dentro quel blocco Ho capito raga Ma passo la notte Passo la notte Passo la notte Porca porca Abbiamo delle scale Delle scale Che lasciamo qui Non ci servono Ok Poi ci ha dato anche I cristalli di Cosa qua Vediamo se abbiamo sbloccato Qualche chest in giro Magari Non si sa Qualche chest Chi lo sa Qua non ci arriviamo Però sotto doveva arrivarci A quella chest Dell'altro giorno Oh 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 Una chest era qua E c'era un'altra di là ragazzi Una fornace Della argilla Ok E delle pepite Questa era già sbloccata E non ce ne eravamo mai accorti Ma seriamente Ma seriamente Ma porca di quella porca Ma guarda qua Chissà quanti L'hanno scritto nei commenti Non me ne sono accorto Torn journal E barabam Che giorno sarà Andiamo un po' Day 38 Voilà Poi abbiamo Pozione della lancia Ok Salute istantanea E salute istantanea E ste cose Io me le metto qua Perché potrebbero sempre servire Guardate quanto è lontana La canna alla zucchero Porca civetta Oh Man Potrei farcela Non ho chest Non ho chest Forse riesco a farmela Vediamo un po' Forse riesco a farmela Vediamo un po' Una crafting branch Dai che riesco a farmela Yes Yes Eh però non ci arrivo Per un peschio Non ci arrivo ragazzi Porca paletta Mi fotto un po' di carbone Strada facendo E in poche parole ragazzi Sto riandando Al Al punto dove posso risalire veloce No l'ascensore Lì come si chiama Eccoci qua Allora qua io vorrei fare Vediamo se bastano eh No non basteranno mai Per fare Che poi potrei fare Andate a ritorno volendo Dovrei scendere giù ragazzi E andate a prendere altri binari O crearmeli Se trovo la redstone E fare poi Prepararci per il prossimo achievement Per cui siamo giunti alla fine Di questo video anche oggi Un bacione Un abbraccio Buon proseguimento di giornata E vi ricordo di guardare Tutti gli altri video Della giornata Ciao